Il Beato Reginaldo d'Orlean Scartabellando le fonti medievali dell'Ordine dei Frati Predicatori, specie in riferimento agli ultimi anni di vita di San Domenico da Caleruega, è possibile imbattersi in una figura apparentemente ai margini della storia, davvero importante solo per la nascita del convento bolognese. Si tratta del Beato Reginaldo d'Orlean, Noto docente, ardente predicatore, uomo di governo ma soprattutto uomo di Dio. La sua vita nell'Ordine di San Domenico fu estremamente breve, ma capace, nonostante tutto, di lasciare il segno, di donare alla Chiesa e alla famiglia domenicana un'eredità non solo materiale ma anche spirituale. Venendo ora ad una breve presentazione, posso dirvi che il Beato Reginaldo d'Orlean nacque nel 1186 a Saint-Gilles e per cinque anni, a partire dal 1206, fu docente di diritto all'Università di Parigi, una delle più prestigiose al mondo. Quando nel 1218 incontrò San Domenico, era già sacerdote, nonché canonico decano della collegiata di Saint-Agnan d'Orlean. Si trovava in viaggio con il suo vescovo per un pellegrinaggio, probabilmente in Terra Santa, e fece sosta a Roma. Il prelato entrò in confidenza con il cardinale Ugolino dei Conti di Segni, futuro papa Gregorio IX ed amico di San Domenico, attraverso il quale conobbe il santo Castigliano e ludì predicare. Successivamente, caduto gravemente ammalato ed in punto di morte, chiamò San Domenico al suo capezzale e fece voto, nelle sue mani, di entrare nell'ordine se il Signore gli avesse concesso la grazia della guarigione. Quella notte stessa, la Vergine Maria apparve in sogno al malato e dopo aver unto il suo corpo, gli donò l'abito dell'ordine dei predicatori, comandandogli di rimanere fedele al suo voto. Completato, su autorizzazione di San Domenico, il pellegrinaggio, il beato Reginaldo fece ritorno a Roma e vestì l'abito dell'ordine, abbracciandone la severa regola di vita. Il santo fondatore, conscio del peso che l'acquisizione di un uomo simile avrebbe avuto, decise di mandarlo a Bologna. La comunità, già stanziata nella celebre città universitaria, viveva ritirata e ridotta per dimensioni a Santa Maria della Mascarella, ben lontana dalla vivacità desiderata da San Domenico. Il beato Reginaldo, fatto priore, non solo diede inizio nel 1219 alla costruzione del nuovo convento presso la chiesa di San Nicolò delle Vigne, ma portò una tale vitalità che poco più di un anno dopo, Domenico ritrovò una comunità vivace, numerosa e pienamente inserita nella vita cittadina. Fra il 1219 e il 1220, il santo fondatore, vedendo tale prosperità, decise di spedire il beato Reginaldo a Parigi nella speranza che ripetesse il miracolo. Come avete visto, si tratta di una figura che ha attraversato la storia e lo spirito dell'ordine dei predicatori con la rapidità e la violenza di una piena, tanto che la sua memoria si fonda su appena una manciata di anni di vita religiosa. Credo tuttavia che al di là delle incredibili imprese che compì a Bologna e della sua repentina vocazione, vi sia una testimonianza che ci potrebbe aiutare a comprendere la sua levatura spirituale. Si tratta di un brano riportato dal beato Giordano di Sassonia, secondo maestro dell'ordine, nel quale propone un breve scambio di battute avvenuto fra il beato Reginaldo ed un certo Fra Matteo. Mi viene in mente che quando era ancora vivo, una volta Fra Matteo, che lo aveva conosciuto fra gli onori e le comodità del mondo, gli domandò pieno di meraviglia «Maestro, non vi è risultato pesante l'aver preso quest'abito?» Lui, abbassando la testa, rispose «Anzi, io credo di non guadagnare alcun merito vivendo in quest'ordine, perché ci ho sempre trovato troppa gioia». Ben strana ci appare questa felicità, nata dall'aver abbracciato uno stile di vita non solo nuovo, ma anche austero e difficile. Non si trattò semplicemente di accogliere una povertà materiale estremamente concreta, ma anche e soprattutto di imparare a vivere non più per se stessi, ma per gli altri. Eppure, quei pochi anni nei quali Reginaldo donò a Cristo e a San Domenico non una versione svuotata di sé, bensì l'interezza di ciò che il Signore aveva fino a quel momento coltivato, furono i più significativi e lieti della sua esistenza. Questo non può lasciarci indifferenti, poiché ci chiama a dare un nome alla gioia di cui il Beato parla. Se infatti si trattasse solo del vano piacere derivante da un cambiamento improvviso, allora saremmo autorizzati a relegare la vicenda nell'ambito puramente personale, soggettivo, un luogo da dove non potrebbe in alcun modo sfiorarci. Ma se invece fosse autentica testimonianza di una pienezza, di un reale compimento dell'esistenza, allora l'esempio di Reginaldo ci chiamerebbe a ripensare radicalmente la nostra vita. Questa, infatti, qualunque ne sia la direzione del carattere, non sarebbe più solo l'occasione unica e preziosa di coltivare un poco di gioia, di dare agli anni di fatica un ricordo meno amaro, bensì la solerte preparazione a rispondere ad una chiamata. Noi, come Reginaldo, dovremmo vivere con i sandali ai piedi, forti dei doni ricevuti, in attesa del momento in cui la volontà di Dio ci mostrerà come realizzare appieno il senso della nostra esistenza nella carità. Allora, in quell'istante, solo un sì ci separerà da una gioia tanto grande quanto misteriosa.